ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spalino.com appuntamento numero 28 della diretta del mercoledì eccezionalmente del giovedì dello spalino.com siamo quasi allo striscione del traguardo con questo appuntamento da un lato siamo tristi dall'altro forse c'è anche un po' di sollievo perché comunque è un impegno comunque ciao Martina Poletti ciao Alessandro Dandini sono le 21.07 porca miseria alle 21.20 dai abbiamo avuto un po' di problemi tecnici ed è la tecnologia per cambiare poi si rivolta contro anche quando non c'è Leo esatto non c'è Leo che è in trasferta l'abbiamo messo nel ticker qua sotto è in trasferta di lavoro e non a Benevento perché fare giornalista sportivo sappiatelo non è il suo vero lavoro allora ciao veramente a tutti quelli che stanno già commentando fin dal primo secondo Paolo Sole lo stesso Stefano che ha detto quando volete Davide Claudia Simone Mattia Edoardo Gianluca Giorgio Carlo Marco Andrea insomma siete sempre tantissimi affezionati noi non possiamo che essere grati di tutto questo io e Martina siamo un po' fritti perché abbiamo avuto entrambi giornate lavorative abbastanza ciao Pela Pui che sono Simonetta gratissima ciao Marcello abbiamo avuto giornate impegnative ma comunque va bene ciao Massimo Roberto Mattioli ciao Alberto ciao Sara soprattutto siamo salvi sì sì siamo salvi infatti si parte si parte da questo perché quella di sabato e dei giorni successivi è stata felicità è stato sollievo perché poi i tifosi da spazio sono meravigliosi anche per questo perché mi è capitato di leggere dei dibattiti veri e propri di gente che dice ah sì beh ma cosa c'è da festeggiare hanno fatto quello che dovevano fare oh signore cioè io sabato ero felice ero felice ero felice perché era un bel po' che non eravamo così felici posso dire è vero è vero è vero che non era una salvezza in serie A non era una promozione però era un po' che non avevamo quelle sensazioni ma io direi una sensazione che mi ha proprio colpito sabato che è proprio stato il vedere lo stadio io uno stadio così una curva così piena la gradinata mi ha portato un po' ai tempi magici pre-covid mi è sembrato quasi un metterci anche lì una linea di dire forse stiamo tornando un po' alla normalità forse le cose iniziano a girare un po' meglio non lo so dimmi tu Ale se hai avuto la stessa impressione ma sì vedo anche Piero che scrive ero contento ma non ho festeggiato intanto ti segnalano per la Pui la Poli mi è passata sabato a 30 cm sabato in cura volevo dirgli sono mi per la Pui ma poi se la tira troppo ma non è vero io la Poli la conosco da un po' non mi sento di dire che se la tiri Mattia dice io sabato ero carico duro altarchè no ma infatti questo è un pensiero che poi ho condiviso internamente anche con tutti gli altri ragazzi dello spallino personalmente era dal 2019 che non sentivo quell'aria lì quel clima lì quell'euforia lì quella voglia veramente di esultare di essere felice insomma non la sentivo da un po' come ho detto a tutto il gruppo era da Empoli Spal 2 a 4 che non respiravo questo tipo di elettricità nell'aria e lascia stare che in mezzo ci sono state due stagioni brutte e il covid quindi è abbastanza direi come carico però era da quegli momenti lì che non avvertivo sensazioni del genere quindi ok è vero è stata una stagione bruttina è stata una stagione sofferta abbiamo discusso tanto tutto quanto però vedi la tua squadra che vince 3 a 0 in casa Dickman fa un gran gol Mora carico duro 7000 e passa persone dai ma concediamoci una giornata di spensieratezza se non è felicità è spensieratezza dai chiamiamola così assolutamente sì assolutamente Simonetta ci dice noi siamo ancora più felici abbiamo visto la partita con Leo sì perché tra le altre cose c'era Leo Semplici allo stadio Simonetta per chi non lo sapesse è l'accompagna dell'ex patron Francesco Colombarini come al solito presente assieme anche a Simone perché non se ne perdono una e sì vedere Leo Semplici in tribuna è stato bello dai non lo vedevamo da un po' quando alla mattina ho saputo che era di strada verso Ferrara gli ho scritto subito gli ho detto mister oh cosa vieni a fare mi hanno invitato vengo volentieri però posso dire una roba faccio un inciso il mister l'ho visto sia prima del fischio d'inizio sia dopo il fischio finale perché da gran signore qual è e questo gli va riconosciuto a prescindere dall'opinione che si può avere di lui come tecnico è venuto in tribuna stampa a salutare tutti i giornalisti perché comunque ho stato qua sei anni figurati sai che l'ho visto proprio immagonato però nel senso come come qualcuno che non ha ancora superato il fatto di non essere più qui lui ha poi proseguito la sua carriera e tutto il resto però è ancora qualcosa che non ha non ha finito di processare ma penso che sia abbastanza normale cioè per quello non forse normale nell'ambiente del calcio perché ovviamente si sa che si è abbastanza abituati a vedere cambi di allenatori cambi di giocatori però ci sono quegli affezionati che rimangono legati ad un posto ad una maglia ad un ruolo e sicuramente è semplice cui ha vissuto dei momenti che gli auguro di rivivere in altri posti ma non so se ricapiterà nel frattempo rispondo a Paolo che intanto la gente che smentisce che tu te la tiri e posso confermare alla Poli ma si ragazzi perché la Poli va sempre in nove strada della partita non viene mai in tribuna stampa perché non è una giornalista quindi no anche perché non si diverte in tribuna stampa se ci viene Elena sabato vi ho visto tutti e tre molto distresi nel post partita all'hangar te lo dico io ho corretto gli ultimi articoli lì bevendomi una birra e potevi venire a salutarci porca miseria ci avrebbe un super piacere vabbè potrei recuperare quando faremo la diretta o dall'hangar o da qualunque altro locale stiamo discutendo come fare l'ultima diretta della stagione con partecipazione popolare con aperitivo beh certo ma no Sandro mi sa che aveva degli altri impegni stasera semplici non ha portato il curriculum no non ha portato il curriculum anche perché poi anche su questo si sono innescate speculazioni di ogni tipo ho letto veramente ma infatti c'è Marco che proprio prima ci chiede ma il ritorno di semplici per voi è davvero fantacalcio? sì decisamente sì Simonetta ci dice che il Paolo Ammazza si sente a casa ma certo è stata la sua casa per oltre cinque anni e mezzo figuriamoci vedendo lo stagione ho quasi sperato beh sì insomma gli vogliamo tutti bene tranne qualche eccezione poi dopo adesso se io parlo troppo di semplici la prima volta in cui incontro la Valeria del centro coordinamento mi dice ah ti hai innamorato semplici e quindi è meglio che io stia zitto perché sembra sembra quasi che io sia troppo pro semplici e comunque Tommaso dice sarebbe stato bello e no il massimo della gioia è se Mr. Easy alla fine della partita fosse venuto sotto la curva a salutare secondo me sarebbe stato troppo perché era la festa della Spal e di Tacopina di Venturato e di tutti quelli che ne fanno parte oggi cioè avrebbe avuto più senso fargli fare un giro sotto la curva prima della partita prima della partita nel 2006-2017 quando c'erano sempre gli ex che facevano la sfilata prima della partita allora lì poteva avere senso ma credo che sia stata una cosa non dico organizzata all'ultimo minuto ma che semplice accettato di fare all'ultimo minuto nel senso che mi risulta che fosse stato invitato già altre volte ma che avesse declinato perché non se la sentiva e che stavolta sia venuto insomma un po' all'ultimo Stabinio Daniele va a Bologna no non lo so dice che va in Spagna va in Spagna in Spagna ci è andato ci è andato a fare un giro con il suo staff a vedere degli allenamenti della partita però sì lo ho visto e poi per la Puglia dice per me ora sta sui coglioni avventurato allora ma ok parliamone è vero è la prima volta che sentiamo questa teoria è vero ma anche questa settimana anche questa settimana mi ha scritto Mattias Mazzetti che saluto tra l'altro che diceva che il suo babbo ci segue sempre in questa diretta infatti saluto anche il babbo di Mattias Mazzetti e anche la sua teoria è che io stia antipatico avventurato devo dire che ci sono diversi questioni in ballo allora la prima non è un mistero che io abbia caldeggiato più volte l'arrivo di avventurato a Ferrara nelle precedenti stagioni dopo semplici e questo poi è successo ma all'idea di questo lui non lo poteva sapere ovviamente perché tanto neanche sospettava della mia esistenza prima di arrivare a Ferrara il fatto che tutte le conferenze stampa di venturato finora siano state fatte via Skype di sicuro non ha aiutato a costruire un rapporto di qualche genere perché se uno è solo un faccione via uno schermo non puoi neanche fare una battuta non puoi dire niente venturato non che conceda molto da questo punto di vista devo dire un uomo molto austero molto serio però devo anche dire avevo anche la sensazione di stargli mortalmente sui maroni ma ieri sera c'è stata la cena tra Giotta Coppina e i rappresentanti della stampa ed è spuntato anche venturato a un certo punto perché era andato lì a mangiare un boccone e si è ritrovato tutti i giornalisti lì letteralmente penso che il culo cosa avrà pensato venturato non credo gli sia piaciuto però è stato cortese abbastanza da fermarsi a fare due chiacchiere e io gli ho detto mister posso immaginare che alcune mie domande non ti piacciono però devi sapere tre cose uno ti ho sempre sponsorizzato due se faccio domande magari a volte un pochino pungenti è perché voglio provare a tirarti fuori qualcosa visto che comunque tendi a essere un po' un po' troppo diplomatico chiamiamo così comunque c'è Elena che sta cercando di lanciare il trend per la prossima stagione che è venturato bloccalo molto bene Elena che ti ha mostrato questa cosa funziona e passerebbe se passeremo il prossimo anno dopo Viviani venturato non potete ancora andare in presenza no Luca il paradosso è che per le conferenze pre partita da da quando c'è stata l'epidemia di covid nello spaventare della spalla dicembre prima di Natale da allora non si sono state più conferenze stampa in presenza pre partita post partita solo di recente siamo abbiamo ripreso andare in sala stampa ma da un mese neanche per il resto è sempre stato via Skype e potete capire che anche voi costruire un rapporto tra giornalisti e allenatori con questo modo non è facilissimo insomma non è un brillantone dal punto di vista comunicativo no stai sul cazzo avventurato perché mi dici ma è importante è una parola che non uso così frequentemente avventura avete detto Giù che non è carino durante una conferenza di smanettare col telefono il problema è che non c'è una circostanza nella quale Giù non smanetta col telefono è sempre lì è una persona che comunque vive divisa in due parti del mondo abbastanza lontane e quindi è l'uomo dei due mondi esatto sa che avrei bisogno di comunicare anche ieri sera mentre eravamo a cena ha messaggiato con non so chi tutto il tempo sì non è ideale però fa parte fa parte del personaggio comunque qua hai lasciato tutti un po' contatto sospeso vogliono tutti sapere che cosa ti ha poi risposto venturato quindi finisci pure il tuo discorso eravate dalla gigina a cena purtroppo no cosa ti ha risposto ma no niente ha sorriso ha detto ok va bene ho capito ma ripeto il venturato non è un uomo che concede molto alle emozioni quindi è proprio imperscruttabile cioè non riesci mai a capire realmente cosa sta pensando secondo me non è neanche bravissimo ad articolare il proprio linguaggio del corpo in modo da darti un messaggio preciso cioè è veramente un uomo austero mi viene a vedere quasi algido nel senso che non si sbottona si è proprio sempre molto lì sulle sue non esagera mai da un lato dall'altro non giudica mai niente cioè perché anche ieri abbiamo provato magari ieri sera visto il clima conviviale gli abbiamo detto mister dai ma ci dici due tre dei giocatori che fai giocare venerdì e mi fa no ci devo ancora pensare cioè concede poco allo scherzo anche però ci sta insomma il carattere di ognuno non importa è un veneto del nord dice Andrea ma è un veneto un po' atipico perché comunque è nato in Australia poi la famiglia si è trasferita nel Trevigiano poi si sono trasferiti a Cremona quindi è un po' un ibrido un po' strambo comunque c'è Marcello che ha scritto una sorta di preghiera anzi come è un Vangelo più chiaro un Vangelo un Vangelo secondoventurato dopo la cena ha preso i microfoni signorese grazie lo diede ai giornalisti e disse questo è il mio modulo offerto in sacrificio per voi e per tutti non fate 433 in memoria di me tra l'altro quel burlone di Marcello che ha scritto questo commento perché sono andato fuori fuoco ok è anche l'autore di questi adesivi che stiamo riprendendo a distribuire perché ne ho ancora tanti a casa perché l'anno scorso dopo averli fatti abbiamo anche chiuso e quindi adesso li stiamo distribuendo oggi sono arrivati una marea di messaggi un po' alla volta risponderemo a tutti alcuni hanno ricevuto risposta altri no perché non è facile quando si ricevono decine di messaggi detto questo parliamo un attimo di Venturato però perché il titoletto è il futuro di RV GZ MT perché Roberto Venturato Giorgio Zammone è Massimo Tarantino infatti vedi subito Federico dice ma fiducia a Venturato o tirare il cambiamento ecco bella domanda non riusciamo a capirlo non riusciamo a capirlo perché Venturato oggi sostanzialmente in conferenza stampa ha declinato questo argomento ha detto dopo l'ultima partita mi sembra normale che l'allenatore e il presidente e i dirigenti si incontrino cerchino di capire cosa è andato bene cosa è andato male cosa si può fare io ci sono mi piacerebbe proseguire quello che ho iniziato quest'anno quindi allora Venturato direi che in maniera più chiara non si poteva esprimere lui vuole rimanere anche perché tra le altre cose non trascurabili ha un altro anno di contratto su questo tema Taccopina non mi è sembrato volersi sbilanciare gra che né ieri sera né in generale né con Sandro Sovrani con il quale ha fatto un'intervista di 13 passa minuti l'altro giorno non colgo un endorsement deciso verso Venturato così come non colgo una sfiducia colgo la necessità di parlarne non so di cosa vogliano parlare i risultati con Venturato non sono stati entusiasmanti però l'obiettivo ci è arrivato è arrivato ben ben insomma dai non credo che sia il momento adesso di fare delle speculazioni nel frattempo leggo un po' di commenti che sono arrivati Luca dice che secondo lui uno tra i tre salta probabilmente uno dei due direttori sportivi è plausibile scusate questo ho fatto un po' fatica a leggerlo ciao ti dico una cosa in dialetto a quella punta risposta di Joe cosa ha detto aiutami no davvero è ovvio Ale qua me lo dovete un po' spiegare ma sì perché succede che Sovrani a fine della sua intervista fa questo colpo di teatro e dice il presidente glielo devo dire a vola punta e Joe cade dalla pioppa e dice che cosa vuol dire e allora Lorenzo Marchetti dell'ufficio stampa gli fa la traduzione e Joe gli risponde ah ok vabbè sì certo è ovvio che ci vuole la punta perché evidentemente non ha colto la comincita di Sovrani insomma ma no vabbè come poteva cioè nel senso che è una frase in dialetto insomma già con l'italiano non è che sia un drago quindi insomma comunque dai pare che l'opinione comune sia che qualche testo salterà quindi staremo un po' sì no vedo anche Alessandro dice per me va via lui non lo vedo a suo agio a Ferrara anche qua anche qua torniamo al discorso che facevo prima però è dura secondo me dire se Venturato è a suo agio in qualcosa o con qualcuno perché non si capisce bene non mi sbilancierei così tanto su questo per me lui è deciso a rimanere qua ma a mettere una forte impronta sulla squadra dell'anno prossimo nel senso che probabilmente è una delle sue non dico condizioni ma forse è più corretto parlare di termine uno dei termini sarà oh ragazzi mi prendete i giocatori che mi servono per fare quello che ho in mente perché quelli che ho trovato quest'anno un po' li avete presi al discount l'ultimo giorno e un po' li avete presi a gennaio con quello che c'era può anche essere che sia un po' controcorrente rispetto a quello che stai dicendo tu e quello che insomma più o meno il pensiero generale io sabato dalla curva ho visto un Venturato sereno un Venturato sorridente sicuramente il momento la circostanza aiutava però non mi è sembrato una persona sofferente di essere qui in generale Andrea dice simpatico come Bissachina no un attimo Bissachina che è poi il soprannome che a Ferrara hanno appioppato Oscar Brevi no nel senso che sono due persone diverse perché Oscar Brevi era un conflittuale cioè era uno che che ha la prima visaglia di critica così passava l'attacco Venturato non è uno così anzi molto spesso si è affrettato a dire ma io rispetto molti giornalisti tengo in considerazione quello che dicono quindi no non è come non è come Oscar Brevi qualcuno chiede era così anche a Cittadella no era la stessa identica roba a Cittadella perché se qualcuno lo ricorderà quando quando è arrivato Venturato a gennaio abbiamo fatto una diretta con Diego Zilio del mattino di Padova il collega che ha seguito Cittadella per una vita e ci diceva che appunto anche lì non c'è tanto da tirar fuori dal Venturato uomo di pubblica relazione mettiamola così non c'è da aspettarsi molto ci viene chiesto a Cittadella facevano quello che passava al commento è certo ma sì però a Cittadella nessuno ti chiede di lottare per il playoff nessuno ti chiede di fare prestazioni di un certo tipo c'è una piazza completamente incomparabile insomma non farei confronti Andrea ci chiede di De Franceschi De Franceschi aspettiamo di capire perché lui al pari di Zamuner ha il contratto in scadenza aveva ricevuto tempo fa un interessamento da parte del Novara che nel frattempo è salito in Serie C vediamo cosa succede insomma se deciderà di a parte che dipende se Taccopina decide di tenerlo qua o di salutarlo quindi anche qua è una situazione che teniamo d'occhio perché in questa fase in realtà mi sento di dire una roba là in via Copparo nessuno è sicuro di niente in questo momento dicono tutti aspettiamo capiamo faremo le riunioni vedremo cioè la sensazione è che se sono state prese le decisioni sono nella testa di Taccopina per adesso nel senso che non sono state comunicate diretti interessati ecco e questo è il problema principale e men che meno alla stampa Sole dice che comunque Taccopina Sovrani ha detto che vuole vincere tutte le partite ed è quello che ci auguriamo anche noi Sole per fare un campionato di diretta sempre felice e allegra a proposito di quello che ha detto Joe con Sovrani Joe o meno lo quace del solito perché nell'intervista con Sandro ok si è tornato su alcuni concetti a lui cari e tutto quello che volete ma di fatto non ha dato notizie cioè di solito Joe ci aveva abituato che qualcosina buttava sempre lì o volontariamente o inavvertitamente buttava sempre lì e invece mi pare che più di recente ci sia un attimo tirato un po' dalla parte buona dicendo aspetta prima di dire questo magari aspetta un attimo può essere che dopo un anno che tutti ripetono e ristudiano e ridicono quello che dice lui e abbia un po' però ieri sera però ieri sera gli ho detto una roba gli ho detto Joe te lo anticipo già da adesso non ti devi offendere perché perché l'uomo comunque a volte tende al permaloso perché so di colleghi che hanno scritto cose sono stati puntualmente contattati anche con Tony non proprio amichevolissimi e gli ho detto non te la devi prendere ma io dal primo giugno ti do questi 20 giorni di margine dal primo giugno sullo spallino attivo il taco counter cioè quindi il contatore ufficiale di tutte le volte che dirai che la spal punta deliberatamente alla serie A della prossima stagione lui si è messo a ridere mi fa ok però per adesso non l'ho ancora fatto gli ho detto ma sappi che se comincerai dal primo giugno io comincerò a mettere il contattore e tu ne risponderai lui ha detto va bene va bene ok lo accetto allora vediamo se c'è qualcuno che ti ha scritto qualcosa se c'è qualche domanda ce ne sono di commenti qua continuano a fioccare Paolo dice che non si è ancora ripreso dalla visione di Sovrani Braccetto Contacopina qua c'è un commento di Gianluca che dice il profilo umano diventurato non è coerente con quello che serve al progetto Tacopina non basta la competenza da dimostrare ancora serve saper contribuire al feeling tra squadra ambiente e tifosi e su questo Tacopina se ne sta rendendo conto un pensiero un po' un po' articolato è una lettura sensata però l'alternativa qual è nel senso che vorrebbe dire prendere un allenatore un po' più passionale passatemi il termine cioè leggevo gente che scriveva di Filippo Inzaghi ma ok Filippo Inzaghi è un tarantolato e la persona più felice del mondo nel caso del suo ingaggio sarebbe Alessio Duatti che saluto da buon cuore rosso nero però non lo so cioè se c'è una cosa che la SPAL non ha avuto in questi anni è stata la stabilità del progetto tecnico allora se vuoi provare a costruire qualcosa devi provare a costruirlo con un allenatore non puoi cambiarne uno ogni sei mesi come la SPAL ha fatto dall'esonero di semplici in poi quindi io se proprio dovessi fare il Tacopina della situazione intanto farei meno panca piana e probabilmente farei anche un po' di cardio ma al di là di quello direi ok facciamo la squadra a immagine e somiglianza di Venturato e vediamo come va se poi a novembre è dodicesimo a meno venti dalla prima allora dici allora qua qualcosa non funziona però io credo che Venturato meriti ancora un po' di fiducia anche secondo me però Orla c'è un'altra domanda che mi sembra che stia ricorrendo molto tra i nostri commentatori che riguarda la fantomatica famiglia italiana che affianca Tacopina cosa ci sai dire a riguardo ma mi fa un po' ridere la chiosa la domanda che fa Riccardo nessuno della stampa qualche informazione in più e no Riccardo perché se qualcuno della stampa avessi qualche informazione in più l'avrebbe già scritto perché questo non voglio dire che sia un po' il santo graal di cui tutti stiamo cercando le prove però è quello nel senso che se Sovrani sapesse chi è o Malaguti sapesse chi è e la famiglia l'avrebbe già scritto il problema è che Giotta Coppina ha una cerchia ristretta di persone fidate a quale fanno parte Dante Sibilia Gianluca Cambareri insomma tre o quattro persone che probabilmente sanno e però non parlano non lo dicono e se lo dicono non lo vengono a dire a me o a Sovrani molto semplicemente quindi io personalmente non ne ho idea sono molto curioso quanto voi da mesi sto cercando di capire come arrivarci a scoprirlo ma non è così facile perché poi la gente dice ma i giornalisti sono lì apposta sì ho capito i giornalisti sono lì apposta ma servono anche tempo risorse colpi di fortuna tutto il resto non è così automatico trovare delle informazioni del genere quindi al momento non ho la più parola di idea di chi si stia parlando ammesso che ciò che dice Gio sia vero perché può anche essere che lui ci stia un attimo bleffando cosa che è perfettamente legittima dal punto di vista di un presidente di una scuola di calcio quindi vediamo mi sento di rassicurare Paolo e dirgli che probabilmente non è la famiglia Adams come lui ha ipotizzato Andrea chiede semplici in tribuna sabato caro Andrea alla fine della diretta magari torno un po' indietro che ne abbiamo parlato largamente all'inizio allora ho visto un commento ho visto un commento ho visto un commento che volevo tirare in ballo vabbè qualcuno che aveva scritto ah ma la famiglia italiana che è con con Tacopina è la famiglia Colombari no direi di no Simonetta se sei ancora collegata magari rispondi puoi aiutarti a smentire ma se tanto mi da tanto sospetto proprio di no e continueremo a provare a a trovare questo nome insomma Stefano Modinski è per Cassi ma per Cassi mi risulta che comunque abbiano siano ancora pesantemente in ballo con con l'Atalanta quindi troverei parecchio strano anche perché Joe è stato ambiguo su questo nel senso che non ha mai detto è una famiglia italiana ma è una famiglia italiana che ha business negli Stati Uniti o business in Italia o business dall'altra parte cioè gli indizi sono pochi e sono vaghi quindi prima di di fare delle speculazioni forse è il caso di avere qualche elemento in più per quello insomma stamattina al lavoro un collega Davide che saluto dice ma si dice che sia questo purtroppo non posso dirlo perché prima devo provare a verificare e se lo dico poi magari i colleghi delle altre testate si scatenano subito e mi anticipano però ho sentito dire vediamo vediamo cioè ci sono molte ipotesi ci sono molte ipotesi scarterei i colombarini però avevi ragione scarterei io scarterei anche la famiglia Pela Pui come ci è stata suggerita da Andrea però fare che uno dei rimorsi sia che alleggi la voce che sia una famiglia lombarda anche qua cioè di voci ce ne sono tante poi hai detto tutto e detto niente con una famiglia lombarda no ma vorrei dire per quanto riguarda le voci purtroppo le voci a volte sono voci con consistenza a volte no perché poi il telefono senza fili io lo racconto a te l'altro lo racconta all'altro l'altro fa un vocale di whatsapp l'altro lo inoltra e via così cioè io mi ricordo ancora con un certo divertimento quando nell'inverno del 2018 sembrava che sempre ci dovesse saltare e mi arriva un inoltro di un messaggio da parte di un amico è scritto hanno già visto Pioli in sede sta firmando sarà lui il prossimo allenatore della spalla ma di che cazzo stiamo parlando dopo Pioli di lì a poco mi ricordo dove è andato ma è andata un'altra squadra più grossa della spalla comunque vabbè che possono essere i ferragni chi lo sa non so se hanno abbastanza risorse per oddio beh risorse direi che ne abbiano non so quanto fatturi ma mi sa che potrebbe anche essere non so però quanto a Chiara Ferragni possa interessare qualcosa della spalla quello potrebbe essere vabbè ok non si può mai dire saranno i soliti di Portotolle dice Piero no guarda Piero dico una cosa che forse molti che seguono questa dieta non sanno ma io sono venuto su a Portotolle la mia famiglia vive ancora a Portotolle Portotolle la frequento e i visentini mi sembrano veramente lontani dal poter essere interlocutori di Giotta Coppina perché proprio non vedo non vedo il punto di connessione mentre i visentini sono amici e sono stati anche credo come dire partner commerciali anche della famiglia Colombarini in varie cose insomma lì c'era un punto di connessione ed era anche un punto di connessione forte ma era anche un punto di connessione noto nel senso che Francesco in alcune circostanze lo disse anche se si li conosco non voglio dire una stupidaggine ma Francesco disse anche una volta che aveva provato magari un po' coinvolgerli e così però quella era una storia un po' diversa non ci hai sorpreso davvero nel senso una connection di questo tipo arriva Guardiola Guardiola non se la sta passando bene quindi potrebbe anche provare un'avventura diversa cosa dici se passiamo ad un prossimo argomento perché sei già stufa non è che abbiamo degli obblighi contrattuali di nessun tipo in realtà no ma chiudendo il ragionamento di chi ci sarà chi non ci sarà io sono curioso perché ovviamente quello che rischia di più probabilmente è Giorgio Zamuner da quello che ho avuto modo di capire diciamo dal chiacchiere attorno all'ambiente SPAL mi pare di capire che Giorgio sia o forse era fino a poco tempo fuori orientato a confermare in blocco la sua area tecnica se ha cambiato idea in queste due o tre settimane questo non lo possiamo sapere l'importante è una cosa che venga fatta chiarezza molto presto nel senso che ovviamente c'è da cominciare a pensare a cosa fare sul mercato quindi l'importante è dare un mandato pieno a chi se ne dovrà occupare tutto qua scusate c'è Edoardo che ci ha suggerito una scena abbastanza simpatica di una Chiara Ferragni con Sandro Sovrani e l'immagine mi faceva abbastanza ridere tante delle cose che sono successe in questi anni neanche ce le avremmo potute immaginare quindi non lo scuderei non lo scuderei che possa accadere comunque a proposito di gente che va o che non va o cosa e dobbiamo parlarne l'elefante nella stanza abbiamo visto l'ultima volta muore al Paolo Mazza da giocatore con la maglia della Spal tutti speriamo di no però cosa dici tu sei tu quello che ha avuto più contatti tu eri in curva sabato quando i giocatori sono andati a lanciare le maglie e mi risulta che lui la sua non l'abbia lanciata era proprio lì che questo cosa ti suggerisce che volesse tenersela e perché voleva tenersela ne avrà tante di maglia della Spal e se la voleva tenere perché magari è l'ultima l'ultima è anche da Capitano eh sì già allora questo è un tema è un tema che ci porta a parlare anche di altro nel senso che Mora o non Mora il punto è quali sono le caratteristiche morali che dovranno avere i giocatori della prossima Spal perché se dobbiamo parlare di caratteristiche morali e intellettuali Luca Mora si fa fatica a superarlo perché è veramente una persona eccezionale da questo punto di vista il suo contratto scade il 30 giugno allora la logica dice che la Spal non gli offrirà un contratto la logica eh il resto non lo so perché Tacopina anche su questo è stato piuttosto ambiguo nel senso che quando il sovrano gli ha chiesto da chi si riparte lui ha risposto da chi ci mette il cuore da chi vuole indossare la maglia della Spal ci tiene allora se questo è il criterio direi che ora ha tutte le carceri regola per rimanere esatto il resto è da valutare nel senso che poi bisogna capire le condizioni economiche quanto è disposta la Spal da offrire a Luca Mora quanto è disposto lui a diciamo ascoltare il cuore e dire vabbè andai un altro anno qua anche se magari da un'altra parte potrebbero offrirmene due e queste cose per un giocatore che va per i 34 tra l'altro li compie tra 5 giorni se non sbaglio è un aspetto importante perché poi ricordiamo che Mora è sposato ha una bambina cioè quindi insomma non è più il Mora di 7-8 anni fa universitario fuori sede fuori corso birrette in giro per Ferrara tra l'altro vorrei dirti di girare ulteriormente nella piega che qua abbiamo già delle vedove di Luca ne vedo alcune ne vedo alcune Elena e Consuelo che hanno già villantato di un lutto abbraccio per tutta la stagione quindi non ricordargli anche che ha sposato con figli che ha gravito solo la situazione sì vedo vedo commenti a pioggia da questo punto di vista allora no dicevo se Mora se ne va anche Vicari e anche Vicari ha finito la sorella della spalla e il cuore di quella spalla non è vero perché c'è ancora pistacchione finotto che vive e prospera in mezzo a noi quindi non è vero del tutto dal punto di vista proprio pratico ieri Mora stava a Roverella insieme a Sassai e Viviani ma Mora l'ho incontrato fuori dallo stadio sabato dopo la partita era fritto cioè veramente fisicamente non stava in piedi perché ha dato tutto e gli ho detto oh Luca ma guarda che ce n'è un'altra no no mi fa non c'è niente basta se io stessi mano non faccio niente ovviamente scherzava perché oggi quando ci hanno dato il bollettino non erano gli indisponibili quindi presumo che viaggerà insieme ai suoi compagni a Benevento però insomma Luca non c'è bisogno che noi facciamo un endorsement per Luca Mora nel senso che gli vogliamo bene e lui lo sa io personalmente penso sia un giocatore che ha ancora senso se non ha pretese di minutaggio cosa che non credo abbia e se si vuole costruire una SPAL solida dal punto di vista proprio del senso di appartenenza prima ancora che delle qualità morali e intellettuali ma proprio dell'idea di dire oh siamo alla SPAL e siamo ben consapevoli di cosa vuol dire giocare per la SPAL e di cosa vuol dire anzi di cosa serve per guadagnarsi una giornata come quella di sabato scorso cioè per guadagnarsi 7000 persone che cantano ti incitano fanno un casino pazzesco in una città comunque relativamente piccola come Ferrara quindi è chiaro che da questo punto di vista potrebbe essere un elemento importante poi ci sono tanti altri pezzi che devono mettersi insieme tra cui anche quello del bilancio che è una cosa che non consideriamo abbastanza frequentemente ma anche ieri sera alla cena c'era anche Andrea Gazzoli il direttore generale e ha detto ma come siamo messi col bilancio e mi ha detto eh presto presto saprete tutto però mi ha detto forse le cose stanno un po' diversamente da come da come le pensate voi il che mi fa pensare che i numeri non siano proprio dei migliori comunque vediamo aspetta che c'è un commento meraviglioso More è invecchiato a Brindisi in attesa di imbarcarsi sull'aereo di ritorno dalla trasferta di Lecce ha tirato fuori le carte e ha intavolato un trionfo ormai frate questa cosa allora sempre che se ne vada ma prima che se ne vada vorrei vedere un trionfo con Mauro Malaguti noto noto giocatore di grandissimo livello di trionfo tanti dicono ma se si è portato Zucculini non vedo perché dovrebbe lasciare partire Mora e Beatrice qui c'è un problema che Zucculini c'è un altro anno di contratto e Luca no e quindi Joe potrebbe dire ne ho già uno ho già Zuccu non ho bisogno di altro certo è che se andiamo a confrontare l'apporto fornito in campo adesso non so tocche il minutaggio di Zucculini ma secondo me ha giocato tipo mezz'ora sì o no quindi boh Luca si chiede qualcosa riguardo invece Mancosu sapete dove andrà ha diseguito il contratto di affitto del suo appartamento due mesi fa madonna che città di suocere ragazzi è bellissimo magari semplicemente cambia casa esatto può anche essere che si traspeschino in una casa più spaziosa o con un giardino più grande non lo so Luca guarda non ho notizie su questo nel senso che Mancosu ha un altro anno di contratto a cifre comunque consistenti per la categoria delle due luna o lui qui non si trova a suo agio ma non credo perché a giudicare da come si è dato da fare anche nell'ultimo periodo nel quale si vedeva palesemente che giocava con un ginocchio malconcio non credo non credo abbia chiesto di andare via e se l'avessi chiesto probabilmente saremmo già venuti a sapere quindi diciamo vale il principio del rasoio di Ockham cioè la spiegazione più banale ma di solito è quella più sensata può darsi solo che abbia diseguito l'affitto perché adesso tra una settimana fanno l'ultimo allenamento poi lui se ne va in Sardegna e torna ad abitare qua a Ferrara ad agosto cioè può anche essere che sia questo non lo so magari cambierà Cappiero invece che ci suggerisce che ha comprato il barco Mirko dice che va a stare in zona Gard e Riccardo che dice che ha comprato ponte vediamo adesso appena appena ci sarà la possibilità di fare un'intervistina con Mancoso gli chiederemo dove ha comprato dove vuole andare a vivere dove ha comprato ha comprato a Fiesso addirittura è andato fuori provincia in un'altra regione no fuori provincia in un'altra regione viene a vivere presti è un po' lunga da Fiesso in via Copparo comunque anche se hai un mega SUV o cose quindi sarebbe più comodo verso Ropole esatto se ci sta guardando qualche giocatore stava pensando ma una sportina di cazzivossi hai ragione Sara ieri sera ne ragionavo con Leo mentre eravamo a cena che diceva Leo ma sì ma i giocatori anche se non guardano la nostra diretta comunque poi gli viene detto cosa diciamo per quello che ci odiano a parte che non è del tutto vero che ci odiano non tutti però alcuni però sì in effetti stiamo comunque parlando di persone non è che stiamo parlando di automi quindi insomma anche qua a stare qua a fare speculazioni su dove ha comprato casa mancoso se ne ha comprato un'altra non è che sia proprio il massimo della vita però fa parte di questo mondo di chiacchiericcio social ma pare che comunque l'argomento lo stia prendendo molto perché continuano a mandarci proposte di dove possa aver comprato casa mancoso allora faccio un'anticipazione dopo l'ultima partita di Benevento lo Spallino pubblicherà il sondaggio che permetterà ai suoi lettori elettrici di votare il miglior gol della stagione dopo quello metterò il sondaggio dove va con le cose di Google Maps che puoi geolocalizzare vediamo cosa viene fuori in tutto questo comunque domani c'è una partita e Venturato l'ha definita importante ma dai non succede mai questo prossimo anno faremo la lista delle partite non importanti che lui non definirà esplicitamente importanti vedremo quali sono no però Venturato ha detto due cose oggi interessanti tra le altre una che non intende fare l'ultimo giorno di scuola quindi ieri sera quando abbiamo ipotizzato la formazione a tavola senza di lui ha detto ma sì farà giocare Almici Zucculini cioè Dorazio quelli che poveretti hanno giocato meno e invece lui in conferenza faccio giocare chi mi permette di fare la prestazione di un certo tipo perché non vogliono fare figuracce non sono queste le partite da vincere dice Ricci per una volta è vero e la seconda cosa interessante che ha detto non me la ricordo più no dai al di là di questa qua sulla formazione che tra l'altro non ci ha concesso neanche il portiere cioè che Alessi Duati di Danoferra gli ha detto ma almeno dai il portiere Pomini ti amo Alfonso è uno dei miei dubbi ammazza Roberto va bene no ma cioè persino Allegri che è uno dei più come dire importanti allenatori italiani in certe situazioni dice faccio giocare questi tre qua il resto della formazione dovete dovete indovinarlo lui invece no praticamente quindi se tanto mi da tanto domani partita vera no? vabbè se le premesse sono queste sì può essere anche che avesse voglia di prendervi un po' tutti per il cura domani faccio giocare i magazzini ma magari Tommy Caselli ragazzi Marco lo vedo più come un libero dietro che si prende i tre metri comunque salutiamo i magazzini a cui vogliamo bene che sono dei grandi e la partita di domani è importante prendere chi ci sarà sugli spalti dici bene Angelo perché comunque ci sono tifosi che si sono presi la briga di andare in trasferta e massimo rispetto per loro davvero perché anche quando non conta comunque c'è la presenza e in quei casi ha ancora più valore ovviamente ma abbiamo un numero di quanti biglietti sono stati no al momento no al momento no guarda chi ci saluta ciao Leo che ci segue da Ancona o dintorni ciao Leo e ci manchi continuiamo di vedere no dai continuiamo di vedere mercoledì prossimo comunque mi ha chiamato avventurato parto stanotte faccio coppia con Big Mac e no perché Michelella non è convocato mazzo vedi che non sei sul pezzo non è convocato e no dicevo un'altra cosa interessante che ha detto RV nel fare una panoramica del suo trascorso qui a Ferrara ha detto ci sono state sei partite che meritavamo di vincere per gioco e occasioni create ma che non abbiamo vinto e questo ovviamente ci ha causato dei problemi allora appena ha detto sei così tante perché Venturato ne ha fatte diciannove con domani venti perché ha fatto l'ultima giornata e tutte quelle giorni ritorno sei su venti sono una marea di partite allora sono andato a vedere il calendario dove andiamo a trovarle sei vittorie tra le mancate vittorie non è facile 66 fantastici Angelo Alessandro grazie allora Simone sulla stadia in realtà non c'è nulla nel senso che Tacopina ha detto che vuole fare degli interventi in curva est per la Hall of Fame tipo il Museo Spal di cui si parla da quando io frequento la Spal cioè da 17 anni e così tanto sì vabbè comunque quindi vuole fare questi questi aggiustamenti per rendere lo stadio diciamo così anche un pochino più appetibile sotto il profilo commerciale ma Simone se ti riferisci al fatto che prima o poi la tribuna verrà rasa il suolo è fatta da zero questa è solo un'ipotesi che è stata fatta dentro via Copparo ma siamo ancora lontanissimi da un qualunque tipo di progetto proprio cioè è solo un'idea ma si potrebbe un giorno vediamo poi Simone non preoccuparti che nel caso venissero fuori delle notizie Leo si connetterebbe già solo a farvi lo spiegone Luca Baraldi dice domani l'ultima partita di Vicari anche questo è possibile non abbiamo parlato con la stessa enfasi di cui abbiamo parlato di Mora perché intanto Vicari è un altro anno di contratto quindi prima prima di salutare comunque deve essere ceduto da qualche parte lui deve accettare di andare da qualche altra parte poi ovviamente l'ultimo anno e mezzo di Vicari con la maglia della spalla è stato contrastinto da molti bassi e pochi alti purtroppo per lui quindi diciamo che è un argomento che forse scalda meno il cuore in generale mi senso di dire anche per il liveo di prestazioni alcune volte che ha esibito i Benevetti frangivento Paolo non mi risulta che ci stiano lavorando su questa cosa ma proveremo a raccogliere informazioni Giacomo dice col Pisa si merita di vincere altri si fatica a ricordare guarda Giacomo io oggi ho guardato la lista delle partite e mi è venuto in mente tipo col Cittadella forse per quello che la spalla ha fatto in campo poteva anche vincerla col Pordenone poteva anche vincerla e siamo già a tre trovare un'altra tre faccio un po' fatica Vicenza si anche no col Cosenza si se tu non avessi preso dei gol da Pollastro con l'Alessandria perché hai preso dei gol da Fesso mettiamo pure quella stiamo già arrivando da 5 comunque Balakettacol vuol fare la zona barbecue al mazzo sala pesi in tribuna tutto bellissimo tutto bellissimo grande vado con Leo a far l'umarello ma Simone non so se ci seguivi nel 2017 facciamo una diretta memorabile io Leo e Lavale Brunetti ciao Vale che non ci guardi mai di sicuro ma con Giro torno allo stadio mentre c'era il cantiere in atto alla sera incontrammo Gazzoli con il caschetto giallo e gli Umarel gli Umarel che però non volevano farsi intervistare perché erano timidi però vabbè insomma li avete comunque disturbati in un momento abbastanza sacro della loro vita quindi fu una grande fu una grande serata parlava di unire i triangoli dello stadio quello dal punto di vista ingegneristico Daniele mi sembra un po' più un problema però perché se non sbaglio negli angoli ci sono i piloni dell'illuminazione quindi io sono lontano dall'essere un ingegnere e dall'avere le minime conoscenze per fare delle valutazioni su questo quindi dobbiamo aspettare l'Eubi Scuola che dia un'occhiata alle planimetrie e ci dica se è possibile costruire gli angoli certo è però Daniele vorrei fare una riflessione dal punto di vista estetico sarebbe fantastico perché chiuderesti l'anello e sarebbe veramente magnifico ma vorrebbe dire aumentare ancora la capienza e siamo a 16 125 se non sbaglio adesso di capienza totale se unisci tutto quanto va a finire che guadagni altri 2000 posteri 18-19 sono tantini perché o hai un futuro stabile in serie A e dici vabbè allora mi servono ma se no non lo so sì rischieresti di trovarti uno stadio abbastanza vuoto il rischio principale è quello lì intanto salutiamo Cosetta che è anche la mamma della polli che si collega poi alla fine però Cosetta no si è collegata prima però è timida la salute solo alla fine va bene la perdoniamo strutture ricettive negli angoli sì no ma ci sono tante idee Piero su questo ma infatti bisogna capire poi anche i tempi perché di questo vorremmo parlare nella parte finale la serie B quest'anno comincerà il 13 di agosto cioè vuol dire che giochi l'ultima partita il 6 di maggio e quindi c'hai giugno luglio tre mesi giusti di pausa e allora è vero che qua a Ferrara abbiamo visto lavori fatti a velocità supersoniche abbiamo visto anche dei supersoni lunghi esatto quindi secondo me Tacopina prima di mettersi in ballo su queste robe qua probabilmente ci vorrà pensare un attimino ecco c'è Piero che dice che ci manca solo la Kiss Cam poi siamo a posto sarebbe un sogno avere la Kiss Cam cosa riprenderebbe la Kiss Cam o la Kiss Cam o la Pitona Cam per incontrare gli spettatori più duri che bello sarebbe oggi ho letto anche che si giocherà due atti mondiali sì Luca è proprio così la lega di serie B si è accordata per andare avanti nel periodo che invece la serie A e le altre leghe principali hanno deciso che sarà di sosta perché sostanzialmente la serie B dice ma chi se ne frega dai noi continuiamo a giocare così evitiamo di fare una marea di turni infrasettimanali che sinceramente hanno seccato la pianta quest'anno ne abbiamo visti 6-7 una roba del genere anche a causa del calendario stravolto però ecco sì io sono d'accordo con l'andare avanti durante i mondiali perché tanto ok ci saranno dei giocatori di serie B convocati ai mondiali stranieri ovviamente perché quelli italiani però vi ragioni non ci andranno però credo si possa sopportare l'assenza di due giocatori per un mese insomma anche perché molto spesso quelli di serie B sono di nazionali minori quindi insomma vabbè allora dicevo scusate riprendo l'argomento si comincia 13 agosto si finisce il 19 maggio ammazza e non ci si ferma per per i campionati del mondo la pausa invernale dal 27 dicembre al 13 gennaio quando comincerà il girone di ritorno e il totale di turni infrasettimanali al netto di sfighe dovute al covid che speriamo siano finite saranno solo due quindi insomma vabbè dai non male dai non si prospetta un calendario terrificante a parte la prima partita dal 13 di agosto basta che non convocano no non lo convocano perché la liberia è andata piuttosto lontana da qualificarsi del mondiale del Qatar quindi non c'è questo pericolo parliamo del flusso di belli ragazzi nove sta messo un po' la testa sabato ci sono sempre state sono sempre state ovviamente sono aumentate in funzione dell'affluenza è una cosa che funziona direi come dire come un grafico quest'anno la B rischia di essere una 2 allora Luca ne parlavamo ieri sera quei giornalisti a cena con JT cioè che ogni anno prima o poi qualcuno esce con questa frase ah quest'anno la B è una 2 ogni anno ogni anno da quando l'aspetto è andata in B si dice sempre così ma è inevitabile perché dai dalla C magari arrivano solo squadre ambiziose dalla A vengono giù squadre impaccate di soldi o presunte tali e quindi però insomma dalla A abbiamo visto che è venuto giù quest'anno è venuto giù il Parma è fatto pietà perché ha chiuso poco sopra la spalla questo campionato adesso non mi ricordo più il distacco ma siamo nell'ordine dei 7 punti quindi insomma vabbè complimenti al Parma che ha speso delle quantità di denaro orrende per provare a fare bene il Crotone che ha fatto il doppio capitombolo è andato a finire in Serie C che era la terza che è andato giù l'anno scorso dalla Serie A non mi ricordo più ho un vuoto di memoria scusate ragazzi sono 10 di sera io oggi ho il cervello fritto vabbè comunque potrebbe essere il Benevento forse il Benevento è in Serie A l'anno scorso sì mi parli sì sì dai che è retrocesso malamente sorpassato dal Cagliari è il Benevento che fa i playoff ok ma che con due sconfitte consecutivi nel finale si è mangiato la possibilità di tornare quindi due su tre sono rimaste falciate dalla retrocessione quindi non è automatico che si scende il Cagliari o il Genoa che sono squadre di grande tradizione di grande ambizione poi siano delle avversarie credibili volevo salutare Gian Maria un mio amico che mi dice che il 13 di agosto sarò a Gambulaga e a Due Raghi è possibile non escludo niente ma magari ci vediamo lì alla grande infatti io sono Zuculina dell'Almondia ha scritto Pasquale mi ha fatto questo commento sarebbe bellissimo però se viene convocato come faremo senza Abu ma Abu anche lui aspetta di che nazionalità è marocchi potrebbe essere convocato la nazionale marocco in effetti se non sbaglio il marocco parteciperà ai mondiali quindi attenzione ad Abu se lo perdiamo e ieri sera ho pagato il tacco per tutti sì è stato un signore ah attenzione ecco una cosa che voglio aggiungere la regina aveva esclusa Andrea ma è presto per dirlo certo il presidente della regina è stato arrestato oggi per malefatte varie dal punto di vista economico quindi vediamo vorrei chiudere con una nota che riguarda il fatto che Joe ha pagato la cena tutti ieri sera ma non solo non solo qualcuno avrà visto qualche foto affiorare sui social e così allora Polli sabato ci siamo visti eravamo entrambi all'hangar a bere della birra dopo la partita felici e contenti e entrambi indossavamo una maglia bianca azzurra io non lo faccio molto spesso l'ho fatto sabato in circostanze abbastanza eccezionali perché io pur essendo una persona dedita alla sobrietà infatti sono vestito completamente di nero anche stasera e mia mamma mi rimprovera sempre ma se diretti sei sempre nero ciao mamma e ho voluto aderire al richiamo della curva coloriamo lo stadio porta la bandiera ovviamente in tribuna stampa non potevo portare la bandiera perché qualcuno dietro mi avrebbe detto ti ero la bandiera e allora sono venuto con la maglia bianca azzurra io di questa stagione ho una maglia anzi avevo una maglia che mi ha regalato il buon Sandro Pasetti non so se ti sta seguendo e allora la faccio vedere la faccio vedere perché Sandro se l'ha giudicata un'asta di beneficenza perché Sandro ha un cuore grande se ne ha giudicate due e mi fa ah lei una te la regalo perché mi fa piacere regalartela io gli voglio bene e gli ho detto grazie però c'è un problema adesso no no dai l'hai detto no diciamo diciamo che a camionato si è in bocca però essendo stata una maglia indossata da un giocatore ti è rischio che potesse essere un giocatore qualunque no e quindi la mia situazione al momento è questa che voglio dire non so quanto ho in comune con Celia credo quasi nulla perché non siamo altri uguali veniamo dall'attitudine diverse lui è mancino io calcio col destro e vabbè quindi sabato ero allo stadio con la maglia di Celia tanto che volevo fare un memino tipo di me con la maglia di Celia tipo sai tre uomini e una gamba no ma vai allo stadio con la maglia di Celia e fai con le tripadelli era finita tutto questo tutto questo per dire che Giotta Coppina ieri sera ha fatto un'opera meritoria regalando una maglia a tutti e adesso mi sono beccato una maglia con il numero 10 e il mio cognome e tu sei geloso lo so polli da morire anche se non avrei mai una maglia bella come la mia esatto infatti perché tu sabato all'hangar sfoggiavi la maglia di Paccon a te ecco e ce l'hai solo tu penso oltre a neanche lui forse non c'era più no lui ce l'avrà sicuramente e tu hai la maglia di Paccon a te io i braghini Celia facciamo il completino va bene Elena quando facciamo la diretta da un bar qualunque ci vediamo e facciamo l'abbinamento tu con le braghine e io con la maglietta chiudo rispondendo a Marcello turno io sei allora ieri sera abbiamo un po' indagato informalmente Gioce ha detto non c'è ancora nulla tutti col 10 infatti abbiamo detto avventurato sei pieni numeri 10 ok Polly grazie per il messaggio in privato che non vi dirò di andare a letto turno in USA forse sì ma non è detto questo è quello che ci hai dato ieri sera ci stanno provando in tutte le maniere a organizzarlo quindi presto avremo notizie comunque ci sarà magari quello e un ritiro in montagna come al solito va bene dai abbiamo superato un'ora abbiamo fatto confessioni veramente brutte ho svelato verità scomode direi che per stavolta ci fermiamo qua l'ultima diretta della stagione non sarà l'ultima sarà la penultima la prossima che faremo perché l'ultima stiamo preparando una sorpresa pazzesca non sappiamo se riusciremo a farla come tutte le sorprese che annunciamo in anticipo ma state sintonizzati la penultima la faremo dal vivo da qualche parte metteremo tutte le coordinate sullo spallino per chi vorrà partecipare venire a bere una birra e urlare qualcosa nelle nostre orecchie nei nostri microfoni ci proviamo e vediamo quanto male andrà questa cosa cosa potrebbe mai andare stor è forse la mia frase preferita ma la polli ha fatto appunto con Meccariello sbaglio è vero non abbiamo parlato del giochino io avevo messo Meccariello però sì ma non è stato il miglior in campo lei ha detto crociata io ho detto dorazio quindi non è andato a finire bene quindi Meccariello sì ha giocato bene ma altri hanno giocato meglio comunque vabbè direi che per oggi è tutto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ah lo vuoi fare anche se sono matematicamente campione va bene dai io ci provo ancora a prendere l'ero dai so i fosti arresi ok si gioca per per i playoff ok poi lui stasera non lo metterà perché no me lo manda me lo manda no dai me lo manda in privato come facevi tu le sere in cui non c'eri dai grazie un gioco scorretto chi è tu uomo il mio uomo è beh penso che non fossi preparata no no adesso sai che devo fare sempre il mio giochino non lo so non lo so non lo so dico Dickman dai ti hai dato già cioè vabbè ok vediamo due gol consecutivi Dickman è una roba più rara del passaggio di una cometa probabilmente va bene io dico Vido che secondo me ha voglia di segnare poi non giocherà perché ultimamente sto dicendo solo giocatori che non giocano mai no aspetta aspetta ce l'ho vai ecco l'ondo ancora sì ma dopo che il bacio della morte il sbagliato a porta vuota anche stamattina esatto dai faglielo fare un gol inutile tra l'altro Polli vorrei segnalarti che quando abbiamo fatto il gioco delle certezze qualche settimana fa una delle certezze era il numero di gol di Colombo da qui la trentottesima lei ha detto due io ho detto due tu hai detto zero eh ti ho preso io non ancora se fa gol a Benevento non ci hai preso vabbè l'importante è che raggiungere Leo io dai mi gioco mi gioco Colombo comunque Diego ci fa un complimento fantastico più bella la stagione dello spallino che quella della spall abbiamo avuto anche un colpo di fortuna mondiale perché ricorderete siamo stati chiusi da giugno a settembre poi a settembre è arrivata Dinamica Media con l'azienda Dio la Benedica che ha comprato lo spallino e lo ha rimesso in pista e quindi non saremo mai grazie abbastanza a Luca e a tutte le persone di Dinamica va bene basta così davvero ci rivediamo mercoledì prossimo grazie a tutti quelli che ci hanno seguito quelli che ci seguiranno in differita qui su YouTube e tutti i canali del mondo e niente buonanotte a tutti e alla prossima buonanotte a tutti ciao ciao